Una squadra di 13 atleti che condividono il sogno di volare alle Paralimpiadi di Rio, ma solo 4 potranno farlo con l'energia di Ascotrade. Sono stati presentati a Vicenza i 13 sportivi candidati a Rio Anch'io, terza speciale edizione del concorso Mi Piace di Cuore, che mette in palio 4 borse sportive da 5.000 euro ciascuna, con cui Ascotrade finanzierà la partecipazione di 4 atleti veneti ai 15esimi giochi paralimpici in programma il prossimo settembre a Rio de Janeiro. Le borse saranno assegnate ai 4 che presenteranno il progetto più vincente e più votato nella pagina Facebook di Mi Piace di Cuore, iniziativa sociale di Ascotrade che per il secondo anno consecutivo ha il volto e il sorriso di una campionissima dello sport paralimpico veneto, la fiorettista Beatrice Vio. Siamo che questo è il mio anno preferito, lo ammetto, perché comunque lo scopo è appunto di portare i più ragazzi possibili a Rio. Le votazioni si inizieranno il 1 febbraio e finiranno il 30 aprile, quindi abbiamo tre mesi pieni per darci da fare e mettere Mi Piace tutti i giorni tutto il tempo. Fra i 13 candidati, atleti di varie esperienze e di differenti discipline, molti dei quali già in possesso del passo olimpico per Rio, tutti ugualmente determinati nel realizzare il sogno di conquistare una medaglia, grazie anche al sostegno di Ascotrade. Questa iniziativa è molto importante perché oltre a dare visibilità ma dà proprio sostegno a degli atleti, a alcuni atleti vincitori, che potranno preparare al meglio questa Paralimpia, di prepararsi a affrontare gli avversari con una sicurezza in più di aver avuto i mezzi necessari, sufficienti per non dire ho fatto tutto, ho tentato tutto, non posso recriminare niente. Una azienda come Ascotrade che sostiene lo sport paralimpico è davvero importante. Il nostro movimento ha davvero bisogno di svilupparsi e per sviluppare e promuovere lo sport paralimpico ci sono dei costi che non sempre la federazione riesce a sostenere. Un aiuto concreto allo sport paralimpico regionale a cui Ascotrade, attraverso il progetto Mi piace di cuore, negli ultimi due anni ha destinato 40.000 euro finanziando l'attività di otto società sportive. Credo che tutte le aziende che hanno la possibilità dovrebbero aiutare chi ne ha bisogno in un momento in cui soprattutto il pubblico non può più dare aiuto. Noi lo facciamo con il cuore in mano appunto, lo facciamo restituendo anche una parte del nostro benessere, ce lo possiamo ovviamente permettere ma va bene così, va bene che il territorio del Veneto sia aiutato dai privati in questo caso. Quest'anno è ancora più importante perché siamo nell'anno olimpico, ormai il Rio è vicino, abbiamo una grande squadra e credo che anche questo Mi piace di cuore dà un senso alla partecipazione, è stato molto importante e io mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni.